Sono Luciana Marinelli, coordinatore del corso di laurea in scienze nutraceutiche, un corso di laurea recentemente istituito dal Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi Napoli Federico II. È un corso di laurea triennale, la cui modalità di accesso consiste nel possesso del diploma di scuola media superiore. Gli obiettivi formativi di questo corso di laurea risiedono nell'acquisizione delle conoscenze nell'ambito delle scienze farmaceutiche, con particolare riferimento a quelli che sono i nutraceutici, i functional food, gli alimenti medicali e gli integratori alimentari. Questo corso di laurea ha l'obiettivo di formare delle nuove figure professionali che abbiano competenze e conoscenze in quella che è la composizione chimica degli alimenti e in quella che è la presenza di principi attivi benefici per la salute umana. Queste figure professionali avranno competenze sulle proprietà dei principi attivi sia in termini di prevenzione che di cura di patologie. Saranno anche esperti in controllo chimico di qualità e di sicurezza dei nutraceutici. Quali sono gli sbocchi lavorativi? Possono i laureati triennali in scienze nutraceutiche lavorare nelle industrie di prodotti nutrizionali e dietetici, ma possono lavorare anche nelle industrie chimico-farmaceutiche che si occupano della produzione dei nutraceutici. Possono svolgere la professione di informatori chimici che si occupano appunto della divulgazione della conoscenza dei nutraceutici o possono svolgere la professione di tecnici dei prodotti alimentari, ma possono lavorare anche in tutte le strutture regionali e del servizio sanitario nazionale che si occupano di benessere, quindi centri termali, strutture salutistiche, centri sportivi o parafarmacie. Perché scegliere quel corso di laurea in scienze nutraceutiche? Perché in realtà l'idea che sta alla base di questo corso ha origini antichissime. Il padre della medicina occidentale, Pogart diceva, fa che il cibo sia la tua medicina e la tua medicina sia il cibo. Ma nonostante l'idea che sta alla base di questo corso di laurea abbia origini antichissime, in realtà le scienze nutraceutiche sono una disciplina estremamente moderna e rappresenta il futuro. Se siete quindi interessati ad un'ampia visione di quelli che sono gli utilizzi dei nutraceutici, e più in generale di quelle che sono le potenzialità della nutraceutica nell'ambito della salute umana, allora questo è il corso giusto per voi.